io mi ricordo che una delle vertenze più per tre anni lo sciopero che facevamo nel in zona furono quelle del canale emiliano romagnolo per garantire l'acqua nelle zone agricole della prima pianura e perché venissero mantenute a produzione di ortaggi che era una grande ricchezza agricola e vedevano i metallmeccanici fare lo sciopero perché il canale emiliano romagnolo fosse costruito per riuscire a dare un altro sviluppo, un'altra idea dello sviluppo, un'altra delle cose fu il fatto di non far fare le speculazioni sulle fabbriche nella città, noi abbiamo fatto vertenze intere con imprenditori che ci proponevano fior di investimenti se lasciavamo speculare nella città, ma questo insieme al PC e al Comune noi facciamo delle battaglie perché le zone industriali restassero anche dopo zone industriali senza farle diventare zone di speculazione edilizia quindi i consigli di zona ci hanno proposto tutta la battaglia sui servizi sociali la sanità, tenete conto che la conquista della sanità pubblica avviene nel 77-78 prima avevamo le mutue, uno dei grandi intrecce con gli studenti negli anni, nel 69, nel 70, nel 72 furono i programmi di intervento sulla medicina del lavoro la salute come bene comune che non potevi scambiare con un po' di latte o un po' di monetizzazione e noi abbiamo fatto vertenze intere in realtà su questo terreno ma questa fu una condizione per costruire l'idea di una sanità pubblica e di un servizio sanitario nazionale il superamento delle... non a caso viene in quel periodo prima il superamento della basaglia, poi il superamento delle mutue e la costruzione di un processo nazionale e quello... noi abbiamo fatto migliaia di iniziative, convegni... abbiamo fatto... la zona serviva a questo cioè nelle fabbriche si discuteva di questi temi tu utilizzavi una parte dell'assemblea per fare queste cose quindi l'idea di questa... dalla fabbrica alla società era un'idea che era andata oltre e portò molti risultati ad esempio la mensa, questa è una delle vertenze storiche in tutte le fabbriche con il prezzo politico che poi è diventato uno dei cavalli di battaglia del movimento studentesco la mensa per gli studenti a prezzo politico noi che fosse un servizio sociale lo dicevamo già nel 69, nel 70 era questo noi non monetizzavamo, ad esempio noi avevamo persone che appunto nella mia fabbrica, impiegati preferivano il voucher e mangiare il panino quanto avevano voglia diciamo no se tu vuoi... tu hai un servizio che è un servizio di tutti tu vieni lì e utilizzi il servizio i soldi no quindi era la mensa come diritto sociale guarda che noi l'inquadramento unico che è una delle grandi conquiste del 74 del contratto del 73 insieme alle 150 ore anzi dal punto di vista interno la più importante è l'inquadramento unico tenta di costruire questo rapporto ma si scontra questo rapporto questa è una mia lettura quindi con un processo di individualizzazione che la globalizzazione già fa sentire è come chiedere adesso perché i giovani fai fatica a intercettarli se tu sei un individualista cioè se la spinta individuale è la spinta che ti viene proposta come modello di società un'idea un po' collettivista come questo dell'inquadramento unico come i valori che noi scrivevamo di solidarietà alle 150 ore il salario cioè l'un per cento da dare ai servizi sociali aiutare la crescita delle piccole imprese noi non abbiamo parlato ma ad esempio il piano di impresa del 77 78 contestato una delle contestazioni più forti a lama e a garavini noi seguiamo la moderazione sindacale salariale per chiedere un grande processo di investimento al sud nelle aree più bisognose del paese quindi con una grande apertura culturale anche con sacrifici perché fare quelle vertenze dove chiedevi pochi soldi e chiedevi invece e facevi sciopera perché le aziende facessero gli investimenti in altre aree del paese e posso garantire che non era semplice non erano tutti d'accordo facevi delle assemblee dove c'era proprio da combattere e poi non era nemmeno facile costruire un modello perché non dappertutto poi chiedere un'azienda andare a fare investimenti da un'altra parte c'era di mettere la dimensione dell'impresa quindi è stato è molto complicato quindi noi l'abbiamo provato questo intreccio abbiamo avuto anche dei successi perché aziende come la gd come la sassi come l'acma a bologna aziende del pacchi tu hai una grossa parte di impiegati iscritti non è che non ne hai io mi ricordo che andai a genova per discutere dell'inquadramento si chiamavano i reticoli professionali per fare l'inquadramento unico per ai impiegati all'ital impianti di genova che erano 2000 tecnici che progettarono per una serie per il partito comunista per il sindacato per trentino per garavini i progetti di sviluppo della sardegna cioè quindi tu hai avuto dei pezzi di grande conquista poi la spinta individuale è una spinta che ha fatto più fatica a riconoscere il sindacato come soggetto collettivo ma lì erano già processi che erano in atto pezzinato che prima di essere segretario della camera della camera del lavoro di milano della cgl della lombardia è stato segretario della fiom lui andava a sostenere tutti gli aumenti uguali per tutti i diritti anche spiccioli cioè la cultura lombarda era molto diversa dalla cultura emiliana ma anche da quella torinese torinese più simile a quella lombarda direi tant'è vero che il loro asse vinceva quasi sempre cioè alla fine quanto c'era da decidere il piemonte e la lombardia avevano un peso tale che decidevano però noi manchevamo aperte una contraddizione su un alcuni di questi temi e la battaglia politica c'era fatta però non avevamo io non avevo la consapevolezza di quale partita si giocava in generale anche perché poi le amministrazioni erano diverse quindi un conto era andare a discutere col comune di bologna di mantenere le fabbriche in città e di fare un piano regolatore partecipato come abbiamo fatto in quanto e farlo in altre realtà dove la destra o c'erano altre amministrazioni che erano più per pervasive dagli interessi di quelli che rappresentavano cioè quindi della grande impresa o dell'impresa quindi è chiaro che c'erano caso purezza che qui c'era un sistema che teneva noi questo sistema c'è andato un po in crisi quanto in una serie divertenze nell 82 83 quindi nella coda le cooperative ha cominciato a essere sempre più simili aziende private e il sindacato ha posto un problema anche nelle cooperative di cominciare a essere soggetto negoziale vero lì ci sono stati più problemi lì c'è stata una certa rottura io alla manuta in coppo una delle più grandi cooperative adesso bolognese che quanto io ero in zona invece non era messa benissimo però aveva una parte metalmeccanica molto importante che era quello che aveva faceva la ricostruzione del centro storico nell'idea di mantenimento del centro storico di bologna c'erano queste queste imprese specializzate nella costruzione nel centro storico della ristrutturazione della parte abitativa attraverso questo aprimo una serie di vertenze con con la cooperazione arriviamo anche a indire un paio di scioperi che era questo un elemento forte di rottura perché c'era la figura del socio lavoratore del lavoratore sono una cosa abbastanza complicata però la dimensione nazionale eravamo consapevoli che infatti qual era uno degli slogan l'emilia rossa l'italia lo sarà che noi quanto in zona discuteva cioè faceva le manifestazioni uno slogan era questo capivamo che era diverso perché da noi c'erano condizioni che non c'erano dall'altra parte alla rottura su questa roba perché in quel caso era una discussione complessa perché tu avevi i soci che potevano essere lavoratori non c'era l'obbligo e uno faceva la scelta il socio decideva le scelte dell'azienda come socio votava democraticamente facendo l'assemblea come il sindacato noi entravamo e come sindacato facevamo l'assemblea dei soci dei non soci e decidevamo alla fine mettevamo di fronte due istanze entrambe legittimate dal loro punto di vista se scegli la democrazia essere rappresentativi e quindi non era semplicissimo e quanto tu andavi l'assemblea a votare due ore di sciopero c'era il socio lavoratore che era in grande difficoltà e su questo si apriva poi delle contraddizioni per cui i soci e leggevano il consiglio amministrazione dentro un consiglio amministrazione però lì c'era già la fase ad esempio dei manager che erano non più la cooperativa classica che noi consideriamo ma un'azienda con caratteristiche un po miste quindi si è aperto un conflitto che ha rotto delle incrostazioni anche che c'erano che si stavano determinando poi se poi andiamo dopo in edilizia vediamo cosa è successo sono sparite tutte le cooperative perché quel modello non era non ce la faceva reggere la competizione cioè l'unica che ci ha provato che è stato la copp di ferrara muratore di ferrara una delle più grandi cooperative e fallita e fallita perché teneva tutto dentro ma con l'avvento dell'appalto del subappalto delle imprese fate così non ha retto la competizione insomma